La linea Isabel. La linea Isabel è caratterizzata dalla presenza di una perna molto importante che al suo interno racchiude la foglia oro. Questa la possiamo vedere nella variante nera oro e nella variante ambra. Ed è questa perna a fare da padrona della linea. Ad arricchire il tutto c'è la presenza di forme moderne, quali questi listi spigolati, che trovate sia in questa variante che in questa, arricchiti dalla foglia oro e da tocchi di colore di vetro. Inoltre il tutto è assemblato con forme morbide, quali quella presenza di questo sasso. Nelle due linee, nei due colori di questa linea, c'è la presenza di tre collane. Una collana lunga importante, una media e una collana girocoli. Inoltre la presenza di tre braccialetti, uno molto semplice, uno medio dove c'è la presenza della foglia oro 24 carati e un altro arricchito da tutte le forme, compresa la foglia oro 24 carati. Gli orecchini poi sono sempre tre e subiscono tre esigenze diverse. C'è un orecchino moderno, semplice, pendente, un orecchino con la presenza classica della foglia oro 24 carati rinchiusa all'interno della perna e poi un orecchino contemporaneo dalla presenza sempre della foglia oro 24 carati su un disco spigolato.